Buongiorno a tutti, allora, c'è un prete, stava a confessare le persone, entra una signora, padre, io ho peccato, c'è bene, mi dimmi, dimmi, che peccato hai fatto? C'è niente, mio cugino mi ha fischiata, per così poco, allora, due mea culpa e ritorno al posto, io se ne va, entra un'altra signora, padre, io ho peccato, mi dica, dimmi, c'è mio cognato mi ha fischiata, ah, anche lei, c'è vabbè, per così poco, due mea culpa e ritorno al banco, e ritorno al banco, entra un'altra signora, padre, io ho peccato, dimmi, dimmi i tuoi peccati, dice mio zio mi ha fischiata, ah, anche lei, bene, due mea culpa anche a lei, ritorno al banco, appena questo esce, va da, va, va da, l'altro paroco superiore, dice, senta, scusa, ma com'è qui tutta la gente che viene, le donne mi dicono, hanno fischiata, hanno fischiata, ma che vuol dire? dice, ah, non lo sa, padre, in questo paese, chi dice che l'hanno fischiata, vuol dire che l'hanno scopata? ah, sì, questo esce fuori, ritorna tutta quei signori, belle signori, voi che prendete i cazzi per fischi, e ritornate un po' qua, ah, ah, ah,